Un posto al sole, puntate sino al dicembre, bici e flirta con altieri, schisa smascherato. Un posto al sole va in onda da lunedì al venerdì alle ore 20.50 sulla terza rete Rai Nunchi e sulla piattaforma streaming iPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana, creata da Wayne Doyle, in merito agli episodi che saranno trasmessi da lunedì 12 a venerdì 16 dicembre. Raccontano che Alice conquista annunzio. Viola, intanto, capirà che Rosa nutre ancora della forte gelosia nei suoi riguardi. Nel frattempo Lia e Diego vivranno un forte momento di tensione. La piccola Bianca. Invece, si renderà conto che Antonello potrebbe essere il fautore della challenge. Mentre bici flirterà col cugino di Mariella. Tra quest'ultima, infine, e le gemelle Cirillo proseguirà imperterrita la guerra. Nel frattempo Michele farà a Silvia e Rossella una proposta originale. Le trame della soap opera di stampo nostrano, riguardo le puntate dal 12 al 16 dicembre. Anticipano che il comportamento di Chiara deluso non può con un suo cammarota che si avvicinerà ad Alice. Alberto, nel mentre, proseguirà nelle sue indagini inerenti al tesoro sepolto nel seminterrato di Villa Paladini. Sebbene ancora l'uomo non sarà a conoscenza a chi apparteneva. Lia, appreso chi le ha sottratto il bottino, comincerà a comportarsi in maniera sempre più indisponente. Nervosismo che potrebbe ritorcersi contro di lei nel luogo professionale. Viola, giunta a casa di Manuel, troverà Rosa e non faticherà ad accorgersi che la stessa prova ancora gelosia e risentimento nei suoi riguardi. Longhi, sempre più convinta di sapere chi le abbia rubato il tesoro, inizierà a vivere dei momenti particolarmente tesi con Diego. Ornella e Raffaele, intanto, dialogheranno in merito alle conseguenze scaturite dalla separazione tra Eugenio e Viola. Quest'ultima, inoltre, verrà ringraziata da Damiano per essere stata in grado di avvertirlo in merito ai problemi del figlio. A seguito del piccoli indizi disseminati qua e là, la piccola Bianca sembrerà essere sempre più convinta che Antonello sia l'organizzatore della Web Challenge. Alice, non volendosi allontanare d'annunzio, non prenderà bene la decisione di Marina di trascorrere le festività in quel di Londra. Mentre Salvatore si avvicinerà di più a Bufalotto Sensibile e Bice finirà per nutrire un interesse per Castrese. Antonello, pur essendo consapevole di doversi assumersi le proprie responsabilità, tenterà di coinvolgere anche Bianca, facendo preoccupare molto Angela, Giulia e Franco. Mentre Bice flirterà con Altieri, Sasa sarà più che mai intenzionato a capire chi sia il fantomatico ragazzo con cui catta. Boschi Junior non vorrà lasciare solo Antonello e tale decisione metterà la bimba in serio pericolo. La guerra tra le gemelle Cirillo e Mariella, infine, proseguirà ancora. Nel frattempo Michele, in vista del Natale, farà una proposta inaspettata a Rossella e Silvia. La guerra tra le gemelle, in vista del Natale, farà una proposta inaspettata a Rossella e Silvia. Grazie. 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 Grazie.